cerchiamo di capire cosa fare per quando si affitta un immobile e non si vuole incappare in qualche sorpresa anzi brutte sorprese come ci si può fidare di un'agenzia cosa dobbiamo guardare soprattutto ma prima di tutto ci sono i requisiti di legalità cioè bisogna verificare che l'agente immobiliare sia regolarmente iscritto quindi che l'agenzia sia regolarmente iscritta registro imprese ed è molto importante se questo avviene presso le camere di commercio c'è un'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile professionale che tutela il cittadino qualora ci siano degli errori che siano commessi da parte dell'agenzia così come anche per esempio la nostra federazione prevede nella tessera per gli associati aderenti agenti immobiliari fiaip l'iscrizione al rea è anche molto importante chiarire il servizio prima di sottoscrivere qualunque documento chiarire il questo servizio significa per esempio per noi attuare una modalità operativa che si chiama una fiaip è una modalità che è già prevista tra l'altro ideata e realizzata ed è divenuta prassi di riferimento presso l'uni e sta diventando anche norma uni a breve e questa prassi prevede una preventiva valutazione di mercato che contempla un controllo e una raccolta di tutta la documentazione dell'immobile a livello di provenienza edilizia catastale impiantistica condominiale e tutto ciò è finalizzato a dare il massimo delle informazioni preventivamente ai contraenti e questo per garantire una libera circolazione degli immobili ma anche soprattutto una tutela per i cittadini andando più sul pratico quando però andiamo a firmare un contratto possiamo fare inserire delle garanzie a tutela nostra anche semplicemente come abbiamo visto col signor scognamiglio lui si è fidato sì facciamo le riparazioni poi si è visto addirittura debitare con la caparra le riparazioni possiamo inserire anche queste cose cosa dobbiamo stare attenti sì le clausole di tutela di salvaguardia si possono sempre inserire previ accordo tra le parti è chiaro per esempio negli affitti commerciali per andare su un tema molto attuale con la pandemia le cosiddette clausole covid prevedevano la possibilità di impegnare il proprietario a rinegoziare il canone di locazione attraverso una sospensione o una riduzione del canone nel caso di misure governative restrittive che portassero diciamo così dei danni da parte dell'inquilino è anche vero però che i migliori contratti sono quelli guidati dal buon senso dall'equilibrio e quelli più tutelanti sono quelli diciamo che vengono come dire hanno un equabilanciamento tra le parti qui la figura può essere veramente strategica dell'agente immobiliare professionale perché per natura giuridica è terzo e imparziale può garantire questa tutela